Un progetto dedicato alle scuole a migliaia di studenti, Energia, che arriva alla sua decima edizione, il tema è quello del risparmio energetico e la regione, nel corso della premiazione finale, esprime la soddisfazione per tanta partecipazione per i lavori prodotti dagli studenti. Questa sarà una delle tappe di avvicinamento alla partecipazione della Bruzza alla conferenza di trattazione ONU sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi dall'11 novembre in poi e nella quale saremo una delle quattro regioni al mondo ad aprire il vertice per l'attività che abbiamo fatto anche con questa manifestazione ma giunta alla decima edizione, ma per le politiche che stiamo mettendo in campo in tema di sviluppo sostenibile, di sostenibilità ambientale in senso lato e di efficientemente energetico. Credo che il nostro futuro, le giovani generazioni, siano i terminali più importanti, più adatti sicuramente a quelli che potranno dare nuova rinfa a noi, al corso dell'immediato futuro.